Papa Francesco, Angelus, primo agosto duemila e ventuno, diciottesima domenica del tempo ordinario La scena iniziale del Vangelo, nella liturgia odierna, ci presenta alcune barche in movimento verso Cafarnao. La folla sta andando a cercare Gesù. Potremmo pensare che sia una cosa molto buona. Eppure il Vangelo ci insegna che non basta cercare Dio, bisogna anche chiedersi il motivo per cui lo si cerca. Infatti Gesù afferma, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. La gente, infatti, aveva assistito al prodigio della moltiplicazione dei pani, ma non aveva colto il significato di quel gesto, si era fermato al miracolo esteriore, si era fermata al pane materiale. Soltanto lì, senza andare oltre, ha significato di questo. Ecco allora una prima domanda che possiamo farci tutti noi. Perché cerchiamo il Signore? Perché cerco io il Signore? Quali sono le motivazioni della mia fede, della nostra fede? Abbiamo bisogno di discernere questo, perché tra le tante tentazioni che noi abbiamo nella vita, tra le tante tentazioni, ce n'è una che potremmo chiamare tentazione idolatrica. E' quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo a ottenere, per interesse. Ma in questo modo la fede rimane superficiale, e anche, mi permetto la parola, la fede rimane miracolistica. Cerchiamo Dio per sfamarci, e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi. Al centro di questa fede immatura non c'è Dio, ci sono i nostri bisogni, penso ai nostri interessi, tante cose. E' giusto presentare al cuore di Dio le nostre necessità, ma il Signore, che agisce ben oltre le nostre attese, desidera vivere con noi anzitutto una relazione d'amore. E l'amore vero è disinteressato, è gratuito, non si ama per ricevere un favore in cambio. Questo è interesse, e tante volte nella vita noi siamo interessati. Ci può aiutare una seconda domanda, quella che la folla rivolge a Gesù. Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E' come se la gente provocata da Gesù dicesse, come fare per purificare la nostra ricerca di Dio? Come passare da una fede magica che pensa solo ai propri bisogni, alla fede che piace a Dio? E Gesù indica la strada. Risponde che l'opera di Dio è accogliere colui che il Padre ha mandato, cioè accogliere Lui stesso. Gesù non è aggiungere pratiche religiose o osservare speciali precetti, è accogliere Gesù, è accoglierlo nella vita, è vivere una storia d'amore con Gesù. Sarà Lui a purificare la nostra fede. Da soli non siamo in grado, ma il Signore desidera con noi un rapporto d'amore. Prima delle cose che riceviamo e facciamo, c'è Lui da amare. C'è una relazione con Lui che va oltre le logiche dell'interesse e del calcolo. Questo vale nei riguardi di Dio, ma vale anche nelle nostre relazioni umane e sociali. Quando cerchiamo soprattutto il soddisfacimento dei nostri bisogni, rischiamo di usare le persone e di strumentalizzare le situazioni per i nostri scopi. Quante volte abbiamo sentito da una persona, ma questa usa la gente e poi si dimentica. Usare le persone per il proprio profitto. E' brutto questo, è una società che mette al centro gli interessi, invece delle persone, è una società che non genera vita. L'invito del Vangelo è questo. Piuttosto che essere preoccupati soltanto del pane materiale che ci sfama, accogliamo Gesù, come il pane della vita, e, a partire dalla nostra amicizia con Lui, impariamo ad amarci tra di noi, con gratuità e senza calcoli, amore gratuito e senza calcoli, senza usare la gente, con gratuità, con generosità, con magnanimità. Preghiamo ora la Vergine Santa, colei che ha vissuto la più bella storia d'amore con Dio, perché ci doni la grazia di averci all'incontro con il suo figlio.